Le lettere di Alissa si fecero, a partire da questo momento, più inquiete e insistenti. Il timore di darti noia non mi impedisce di dirti quanto io ti aspetto, mi scriveva verso la fine dell'estate. Ogni giorno che manca, prima che ti riveda, pesa su di me, mi opprime. Ancora due mesi, mi paion più lunghi di tutto il tempo già passato lontano da te. Tutto quel che comincio per cercare di ingannare l'attesa, mi sembra delisoriamente provvisorio e non posso dedicarmi a nulla. I libri sono senza valore e senza interesse. Le passeggiate senza attrattive. La natura tutta senza prestigio. Il giardino scolorito e senza profumi. Invidio le tue curvè, questi esercizi obbligatori e non scelti da te, che ti tolgono continuamente a te stesso, ti stancano, ti fanno passare le giornate e a sera ti precipitano, pieno di stanchezza nel sonno. L'impressionante descrizione delle manovre che mi hai fatto, mi ha ossessionata. In queste ultime notti in cui dormo male, molte volte mi sono svegliato di soprassalto al richiamo della Diana. Perfettamente la sentivo. Immagino così bene quella specie di leggera ebrezza di cui parli, quella allegria mattutina, quella mezza vertigine nel gelato stupore dell'alba, come doveva essere bello l'altopiano di Maltville. Io sto un po' meno bene da qualche tempo o niente di grave, credo di aspettarmi un po' troppo un l'altro. E sei settimane dopo. Ecco la mia ultima lettera, amico mio. Per quanto tu sia poco sicuro ancora circa la data del tuo ritorno, pure non può tardare molto. Nulla potrei scriverti. Avrei desiderato rivederti a Fongelmer, ma la stagione si è fatta cattiva, fa molto freddo e papà non parla che di tornare in città. Ora che né Juliette né Robert sono più con noi, potremmo facilmente ospitarti, ma è meglio che ti fermi dal dia felice che sarà felice di riceverti. Man mano che il giorno del nostro incontro si avvicina. La mia attesa si fa più ansiosa. È quasi a prensione. La tua venuta tanto desiderata mi sembra ora di temerla. Mi sforzo di non pensarvi più. Immagino la tua sonata di campanello, il tuo passo per la scala e il cuore cessa di battermi o mi fa male. Soprattutto non aspettarti che io possa parlarti. Sento che là termina il mio passato, termina il mio passato. Al di là non vedo nulla. La mia vita si ferma. Quattro giorni dopo, cioè una settimana prima della mia liberazione, ricevetti tuttavia ancora una lettera molto breve. Amico mio, ti approvo del tutto in quanto tu non cerchi di prolungare oltre misura il tuo soggiorno alle Uvra. E la durata del nostro primo incontro, che avremmo da dirci che non ci siamo già scritti, se delle iscrizioni da prendere ti richiamano a Parigi dal 28, non esitare, non rimpiangere nemmeno di non poterci dedicare più di due giorni. Non avremo tutta la vita? Bisogna ora dissipare l'imbarazzo che la solennità di questo incontro rischiava di alzare tra noi. Vorrei proprio, ripresi, che questi giorni vicino a te ci abbiano a sembrare simili ad altri giorni. Voglio dire, non sentire tutte e due che sono eccezionali. E poi, se potessimo non cercare troppo di parlare, anzitutto, si mise a ridere, aggiunsi, e aggiunsi, non c'è qualcosa cui possiamo dedicarci insieme, avevamo avuto sempre piacere per il giardinaggio. Un giardiniere inesperto sostituiva da poco l'antico, e il giardino, abbandonato per due mesi, presentava molto da fare. Alcuni rosai erano mal potati, altri, dalla vegetazione rigogliosa, restavano in gombri di legni secchi. Altri rampicanti ricaddevano mal sostenuti. Alcuni prepotenti ne soffocavano altri. La maggior parte era stata innestata da noi. Riconoscevamo i nostri alunni. Le cure che richiedevano ci occuparono a lungo, e ci permissero i primi tre giorni di parlare molto senza dir nulla di grave, e quando tacevamo di non sentire il peso del silenzio. Fu così che ci riabituammo l'uno all'altra. Contavo più su questa abitudine che su non importa quale spiegazione. Il ricordo stesso della nostra separazione già si cancellava tra noi, e già diminuiva quel timore che spesso sentivo in lei, quella contrazione dell'anima che lei temeva in me. Alissa, più giovane che al tempo della mia triste visita di autunno, non mi era mai parsa più graziosa. Non l'avevo ancora baciata. Ogni sera rivedevo sul suo corpetto, trattenuta da una catenina d'oro, brillare la croce d'ametista. In confidenza, la speranza mi rinasceva nel cuore. Che dico, speranza, era già sicurezza, e immaginavo di sentire la medesima cosa in Alissa, poiché dubitavo così poco di me da non poter dubitare di lei. A poco a poco i nostri discorsi si fecero più audaci. Grazie. Grazie.